Questo bacio a sorpresa in diretta tv dal conduttore Jean-Michel Maire Intanto vediamo lo scalzo Ah mamma mia No questa poi no Pazzesco Zoppica un po' è stato investito dalla cameraman Queste sono riprese non della regia internazionale ma della Adesso invece è il primo degli umani La questione è come le democrazioni rispondono a questi scandali E cosa significa per la regione più ampia Penso che uno dei vostri figli ha appena passato Sì, è cambiato la regione, credo che le relazioni con il nord possono cambiare? Sì, sarei sorpreso se lo facessero Sì, um, scusami Sì, scusami Sì, scusami Sì, scusami Sì, scusami Sì, scusami Sì, scusami La decisioni dei politici di Norte ha stato sembreramente limitato oh si oh oh también va a pelear con México México va a pelearme a Alemania pero me da la impresión de que Alemania ya llegó a su límite y México ya también llegó a su límite me permite Chile 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 ole 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 l'occasione i 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